Al mio video precedente, Luke commenta che non riesce a capire bene quali sono i vantaggi di un approccio funzionale rispetto ai tradizionali cicli 4. In questo video cercherò di rispondere a questo commento con un esempio pratico in tre linguaggi di programmazione. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Iniziamo col dire che la programmazione funzionale, così come la programmazione orientata ad oggetti oppure la programmazione procedurale, è uno dei modi possibili per approcciare un problema. Sebbene ci siano linguaggi che si prestano meglio alla programmazione funzionale rispetto ad altri, è possibile applicare molti concetti di programmazione funzionale a qualsiasi linguaggio. Altra cosa importante da dire è che la programmazione funzionale non è la panacea di tutti i mali. Ci sono certe problematiche che sono risolte più facilmente con un approccio procedurale e certe altre problematiche che sono risolte più facilmente con un approccio funzionale. Il campo dove la programmazione funzionale eccelle è quello della trasformazione di sequenze di dati da un formato ad un altro. Facciamo quindi un esempio semplice semplice di problema dove la programmazione funzionale ha dei chiari vantaggi e poi proviamo ad approcciarlo prima in maniera procedurale utilizzando il linguaggio C e poi in maniera funzionale utilizzando i linguaggi Python ed Elixir. Partiamo da una stringa contenente una linea di un file CSV. Un file CSV non è nient'altro che una serie di valori separati da virgola. Questa linea contiene i 20 numeri che vedi nella slide. Io voglio ottenere la somma di tutti i numeri pari contenuti in questo CSV. Proviamo quindi a scrivere un programma in linguaggio C per risolvere il problema in maniera procedurale. Iniziamo dalla linea 6 che è la mia stringa di dati CSV. Nella linea 7 ottengo semplicemente la lunghezza della stringa. Le linee da 9 a 11 sono delle variabili temporanee. L'idea è quella di mettere la stringa che rappresenta ognuno dei numeri contenuti nel CSV nel buffer temporaneo definito nella linea 9 e convertire questa stringa in un intero. Questo intero è quello definito in linea 11. La linea 10 definisce un indice all'interno del buffer, mentre la linea 12 è la nostra somma. Linea 14, il nostro bel ciclo for. Quindi la nostra variabile i è l'indice all'interno della stringa CSV e andiamo a scandire la stringa CSV carattere per carattere dall'inizio per tutta la durata della sua lunghezza. Ora, non preoccupiamoci subito delle linee da 15 a 23, ma vediamo subito le linee 24 e 25. In condizioni normali, cioè quando mi trovo a scandire una cifra numerica, metto questa cifra nel buffer e alla linea 25 incremento l'indice all'interno di questo buffer. Fin qui tutto bene. Vediamo ora la linea 15. Se mi trovo sul carattere virgola significa che ho finito di scandire le cifre del numero, quindi in questo caso, linee 16 e 17, metto nel buffer il carattere di terminatore stringa e poi mi debbo ricordare a zerare l'indice del buffer. A questo punto il nostro buffer contiene la stringa che rappresenta il numero corrente. Non ci resta che convertirlo in un numero intero. Ed è proprio quello che fa la funzione atui in linea 19. A questo punto abbiamo la variabile tmp che contiene il numero attuale. Nelle linee da 20 a 22 non facciamo nient'altro che vedere se il numero è pari, un numero è pari quando il resto della divisione di quel numero con 2 vale 0, e se è pari aggiungiamo questo numero alla nostra somma. Infine, linea 29, dopo che abbiamo scandito tutta la stringa CSV, andiamo a scrivere il risultato su standard output. Ricapitoliamo quindi le caratteristiche di questo approccio procedurale. Ho tante variabili temporanee, un buffer, un intero temporaneo e ben due indici di cui tenere traccia, l'indice all'interno della linea CSV e l'indice all'interno del buffer, che vanno incrementati e azzerati al momento giusto. Anche se questo approccio è relativamente semplice da seguire, mi parlo nei dettagli. Infatti, questo codice contiene pure un bug, che con questa esatta sequenza di numeri non si presenta, ma se cambi i valori del CSV potrebbe presentarsi. Belli bug che si presentano solo ogni tanto, vero? Se hai trovato quel bug, scrivimelo nei commenti. Se invece non ti sei reso conto che a questo codice manca ancora qualcosa, ecco dimostrato cosa intendo quando dico che con l'approccio procedurale ti perdi, e letteralmente ti perdi nei dettagli. Vediamo ora invece come un approccio funzionale ci semplifica la vita. Iniziamo con un concetto fondamentale, che per alcuni è scontato, per altri no. Cioè che puoi passare delle funzioni come parametri ad altre funzioni. Secondo concetto fondamentale è quello di lambda. Una lambda non è nient'altro che una funzione che costruisce al momento. Con un esempio dopo sarò tutto più chiaro, non preoccuparti. Ci sono poi tre funzioni che io considero i pilasteri della programmazione funzionale, cioè map, filter e reduce. Per capire come funzionano map, filter e reduce è meglio farlo con un esempio. Veniamo quindi al nostro programma in Python, scritto con un approccio funzionale. Ora, se tu conosci bene Python, sa che questo problema può essere risolto anche in maniera più semplice e concisa, ma ho voluto scriverlo in questo modo per dimostrare l'approccio funzionale e le funzioni map, filter e reduce. Partiamo dalla linea 5, che è la nostra bella stringa CSV. Alla linea 7 chiamo la funzione split, che mi genera una lista di stringhe spezzando il mio CSV ogni volta che trovo il carattere virgola. Mi ritrovo quindi con una lista dove ogni elemento è una stringa contenente la rappresentazione in stringa di ogni numero. Linea 8. Ecco che troviamo la funzione map. Indipendentemente dal linguaggio di programmazione utilizzato, map è una funzione che prende due argomenti, una lista ed una funzione. Map applica una funzione ad ogni elemento della lista e crea una nuova lista con ogni elemento che è il risultato della funzione applicata. In Python il primo argomento di map è la funzione ad applicare e il secondo la lista, o se vogliamo essere pignoli, l'iterabile, su cui applicare la funzione. Altro dettaglio di Python è che map non ritorna una lista ma un iteratore. Però, con lo scopo didattico di questo video, facciamo finta che le funzioni map e filter ritornino delle liste. Quindi, la linea 8 applica la funzione int ad ogni elemento della lista di stringhe, ottenendo così una lista di numeri interi. Linea 9. Funzione filter. Indipendentemente dal linguaggio di programmazione utilizzato, filter è una funzione che prende due argomenti, una lista ed una funzione. Filter applica una funzione ad ogni elemento della lista e ritorna una nuova lista contenente solo gli elementi per cui la funzione applicata ritorna true. In Python, come per map, la funzione filter vuole la funzione ad applicare come primo parametro e la lista come secondo parametro. Ecco qui che troviamo anche il concetto di lambda. In Python, la lambda la definisci con la parola lambda seguita dagli argomenti, in questo caso un solo argomento chiamato x. Il valore di ritorno della lambda è questo x mod 2 uguale a 0, cioè ritorna true se il numero è pari. Quindi, il risultato della linea 9 è una lista, o nel caso di Python un'interazione se vogliamo essere pedanti, che contiene solo i numeri pari. Linea 10. Funzione reduce. Indipendentemente dal linguaggio di programmazione utilizzato, reduce è una funzione che prende tre argomenti, una lista, una funzione ed un valore iniziale per l'accumulatore. Ok, qui le cose si fanno un po' difficili da capire all'inizio, ma vediamo di spiegarle nella maniera più semplice che riesco. Allora, ho un valore unico che si chiama accumulatore. Reduce, per ogni elemento della lista, chiama una funzione dandole due parametri. Un parametro è l'elemento della lista, e l'altro parametro è il valore attuale dell'accumulatore. La funzione ritorna il nuovo valore dell'accumulatore. Alla fine, reduce ritorna l'ultimo valore dell'accumulatore. Se reduce viene chiamata con due soli argomenti, allora il valore iniziale dell'accumulatore è il primo valore della lista, e la funzione viene chiamata a partire dal secondo elemento in poi. Tutto questo ve lo spiegone per dire che la nostra lambda ha due parametri, e non fa nient'altro che sommarli. Come puoi vedere però, questo programma Python ha tre variabili intermedie, lista string, internumeri e interpari, e la cosa non mi piace. Vediamo la stessa soluzione in Elixir. Come puoi vedere, la soluzione in Elixir è molto simile a quella in Python, però possiamo fare a meno delle variabili intermedie grazie all'operatore pipe, questo simbolino che vedi all'inizio della linea 7 per esempio. L'operatore pipe non fa nient'altro che prendere il risultato precedente, e passarlo come primo parametro alla funzione successiva, in maniera molto simile come avevamo visto per la Shelly in un altro video. Il programma Elixir si può quindi leggere in questa maniera. Ora, ho il mio bel CSV iniziale, ottengo una somma, partendo dal mio CSV. Lo spezzo al carattere virgola ottenendo una lista di stringhe, trasformo questa lista di stringhe in una lista di interi, ottengo una lista contenente solo i numeri pari, sommo tutti questi numeri pari tra di loro, scrivo sul standard output il risultato. Nota come, utilizzando un approccio funzionale, la mia attenzione è passata da cosa faccio in ogni minimo dettaglio e mi perdo, a che trasformazione faccio fare ai miei dati. Possiamo quindi stillare un protocollo di lavoro se vogliamo approcciare un problema in maniera funzionale. Si tratta di una lista? Abbiamo visto nei nostri esempi che chiamando la funzione split possiamo ottenere una lista a partire da una stringa, ma ovviamente ci sono vari modi per ottenere una lista a seconda dei tipi di dati che mi ritrovo in input. La lista è nel formato che mi aspetto? Se non è nel formato che mi aspetto, uso la funzione map per renderla utilizzabile. La lista contiene solo i dati che mi servono? Se ci sono più dati rispetto a quelli che mi servono, allora uso filter per avere solo i dati che mi interessano. Nota che questi ultimi due passaggi, mappe e filter, possono essere applicati più volte a seconda di cosa ho bisogno. Ho bisogno di un unico valore? Se ho bisogno di un unico valore, come nel nostro esempio che ho bisogno di un unico valore, cioè della somma dei numeri pari, allora uso reduce per effettuare un'operazione sui miei dati che ritorni il valore di cui ho bisogno. Nota però che spesse volte l'unico valore di cui ho bisogno è una stringa e sebbene usare reduce con una funzione che con catena stringa funzioni perfettamente, esiste anche la funzione join che lo sposto di split, cioè prende una lista di stringhe e costituisci un'unica stringa usando un'altra stringa come separatore. Concludendo, abbiamo visto come un approccio procedurale ti faccia concentrare sui dettagli e su ogni singolo passo da fare e come questo ti faccia perdere e introdurre facilmente dei bug. Abbiamo anche visto come un approccio funzionale ti sposta l'attenzione dai singoli passi da fare a quali trasformazioni fai fare ai tuoi dati, rendendo il tutto molto più lineare e facile da seguire. Una volta che ci hai fatto la mano, ben inteso. L'approccio funzionale vince quindi su tutti i fronti, giusto? Non proprio. E per questo voglio fare una famosa citazione di Alan Perlis che dice Io sostituirai l'ISP con qualsiasi approccio funzionale, indipendentemente dal linguaggio, ma il significato di questa citazione è che un approccio funzionale ha un costo sia in termini di memoria utilizzata che in termini di utilizzo della CPU. Se noti, il programma C utilizzava un buffer da 4 carattere più 3 interi, quindi come utilizzo di memoria era veramente irrisorio. Poi, la stringa CSV veniva scandita una volta sola e dalla fine della scansione avevamo già la nostra bella somma pronta. I programmi Python ed Elixir, per contro, generavano tre liste ed ognuna di queste liste andava scandita, per cui l'utilizzo di memoria e CPU è nettamente superiore rispetto al programma C. Ora, la domanda è La semplicità di comprensione dell'approccio funzionale vale il costo in termini di consumo di memoria e CPU? E la risposta è Dipende. Dipende dall'applicazione che stai facendo. Però considera che i computer odiarni hanno tanta di quella RAM e potenza di calcolo che la risposta di default deve essere Certo che un programma più facile da seguire e con meno possibilità di bug vale il consumo maggiore di RAM e CPU. Se però ti ritrovi a fare un software embedded dove la RAM è misurata in kilobyte e la CPU è un microcontrollore a 16 bit che va a 32 MHz beh, allora lì l'approccio procedurale ha senso. Spero di aver chiarito un po' le idee a chi non vedeva nessun vantaggio nella programmazione funzionale. Ovviamente la programmazione funzionale ha molti altri vantaggi e non si limita solo a map, filter e reduce ma come video introduttivo direi che può bastare. Grazie dell'attenzione ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video, ciao! Veniamo quindi al nostro... No Spero di aver chiarito un po' le idee a chi non aveva... Bello